Ciao, sono la dottoressa Maria Concetta Paolucci. Oggi ti voglio dare dei consigli naturali per poter curare la cistite, soprattutto nei casi in cui non puoi utilizzare i farmaci, come nel caso della gravidanza. In gravidanza purtroppo capita spesso questo problema. Se intervieni in maniera repentina, sia con l'alimentazione, sia con delle cure fitoterapiche, che puoi senz'altro combattere questo problema. Innanzitutto l'alimentazione. Devi cercare di evitare quei cibi che possono andare ad irritare ancora di più la vescica che è già infiammata. Quindi dai cibi piccanti, speziati, alle fritture, agli alcolici. Quindi prediligi dei cibi light e bevi molta acqua, un paio di litri al giorno. Un altro rimedio naturale che ti può essere di aiuto sono le tisane e gli infusi. Le tisane sono un mix di erbe utili a combattere il tuo disturbo. Vanno preparate facendo bollire in acqua le foglie fresche della pianta per circa 10 minuti. Poi si filtrano e si fa raffreddare la tisana. Tra le tisane più rinomate, con proprietà utili per combattere la cestite, sono senz'altro quelle al mirtillo rosso o cranberry. Il mirtillo rosso ha una proprietà fortemente antinfiammatoria del tratto urinario e ha una capacità di favorire il suo effetto già dopo qualche minuto. Un'altra tisana molto rapida come azione è quella la malva. La malva è una pianta che ha un potere antinfiammatorio, ma anche un potere lenitivo, calmante. Poi c'è la tisana d'ortica che ha una capacità immediata di dare sollievo. L'ortica ha un'azione fortemente diuretica, quindi è in grado di eliminare i batteri che vanno a dare il problema della cestite. Anche questa deve essere utilizzata, deve essere presa ai primi sintomi della cestite. Quindi non aspettate che l'infezione avanzi, ma intervenite presto. Un'altra tisana molto efficace contro la cestite è quella dell'uva ursina. L'uva ursina ha una sostanza, un principio attivo che è chiamato l'arbutina che ha un forte potere antibatterico, antimicrobico. Un'altra tisana che favorisce un'azione antibiotica naturale è la calendula che può essere abbinata a quelli al mirtillo rosso o all'ortica. Quindi mi raccomando, intervieni presto con alimentazione e con una sana e corretta tisana. Farmacia di Nardo ci sa fuori il tuo benessere.